Da due giorni a Venafro, a seguito di un guasto alla illuminazione pubblica, due centralissime vie sono piombate nell'oscurità. Qualche disagio quindi per i residenti. Dura da due giorni il blackout della pubblica illuminazione nel centro di Venafro. Da tanto si protrae il guasto che, dalle prime ore della sera e per tutta la notte, fa piombare nel buio una parte di Corso Campano e nella sua interezza, Viale Vittorio Emanuele. Le immagini, e in realtà quel poco che state vedendo, risalgono alle venti di ieri sera. Di prima chito sembra si tratti, è proprio il caso di dire, di oscure strade periferiche. In realtà siamo nel cuore della città, tra le vie cioè più trafficate e maggiormente frequentate dai residenti. Nell'area sorgono infatti un gran numero di negozi ed esercizi commerciali. Proprio dai titolari di uno di questi la segnalazione alla nostra redazione. Possibile che qualcuno del comune in questi due giorni non si sia accorto e soprattutto non abbia fatto nulla? Questa la domanda dell'esercente al momento in evasa.